Non importa se vai matto solo per il cibo spazzatura o se sei fissato per le cose sane. Questa sfida metterà alla prova il tuo appetito. Mangiare sano non è sempre divertente. Soprattutto quando si sente l'odore della pizza. Forse posso ingannare i miei sensi nel pensare che questo sia formaggio. Beh, almeno ci ho provato. Posso prenderne una fetta, Alice? Ed è che gli ho dato solo un'annusata. Tieni le mani lontane dal mio cibo. Ah, ho un'idea. È ora di fare una sfida. Bene, ragazze, fate la vostra scelta. Spero che abbiate appetito. Ma sì. Sentite questo odore. Beh, vediamo di cosa si tratta. Gelato! Fragola e vaniglia. I miei gusti preferiti. Fammi prendere una bella cucchiaiata. Alice, a te cos'è toccato? Una stupida cipolla. Ma la devo mangiare. Ma non è come un bel gelato. Sento le lacrime. Accidenti! Quanta è succosa! Ma fa schifo! Qualcuno può dare ad Alice una mentina? Sento l'odore da qui. Sì, datemi una mentina. Uno, due, tre, quattro. Alice, tocca a te! Patatine e salsa! Questo è il miglior spuntino di sempre! Spero che la salsa sia piccante. C'è solo un modo per scoprirlo. Olivia, e a te cos'è toccato? Lattuga? Ma cosa sono una tartaruga? Ma non c'è neanche del condimento. Beh, non sa di nulla. Mi sa che funziona meglio come ventilatore. Non pensate? Forse un po' di piccantezza aiuterà. Beh, non è così male. Grazie. Ce lo giochiamo? Sasso batte forbici. Chicchi di mais. Ma non devono essere cotti. Ma non si possono masticare. No, non è commestibile. A meno che non usi questa piastra. Se la piastra è abbastanza calda, scoppieranno. Pronto? Figo, non è vero? Ci vuole un pochino, ma sono buoni. Ellis, tu cos'hai da mangiare? Oh no! Degli stupidi cavoletti di Bruxelles. Vediamo. Io li preferisco cotti, ma forse non sono così malvagi. Beh, in effetti non sono così male. D'è che questa volta è andata bene. Wow! Buon appetito! Guardo io per prima, ok? Ok. Evviva! Due barrette di cioccolato! Ciao ciao! Ho già vinto io! Mmm, c'è del caramello. Ho paura di guardare. Un pompelmo? Beh, non avrà il sapore del cioccolato. E nemmeno l'odore. Potrei dargli un morso. E' polposo. E' anche succoso. Potete darmi dello zucchero. Non guardare qui. Sì, il cioccolato vince di sicuro. Complimenti, Ellis. Cosa mangeremo in questo round? E' un frullato verde? E tu, Ellis? Una Coca-Cola ghiacciata. Sarà dolce? Odora di prato. Beh, diamoci dentro. Olivia, ma non assaggi? E va bene. Oh no! Qualcuno potrebbe portare una cannuccia. Che casino! Non posso credere di averlo bevuto tutto. Spero non mi mandi al bagno. Pure io, Olivia, pure io. Ma dai che non sarà così male. Vediamo. Gah! Complimenti! Almeno non hai vomitato. Oh no! Alice, dai tu un'occhiata. Ehi, patatine! E per Ellis? Patatine di mele. Beh, non è lo stesso. Aspetta un secondo, Olivia. Fammi preparare tutto quanto. Bene, ora apri gli occhi. Oh, ma non volevo vedere questo. Ti tocca quello che ti tocca, non è vero? Direi di sì. Non le ho mai provate prima. Ma c'è una prima volta per tutto. Hanno un odore così strano. Beh, ecco qua. Aspetta un secondo. Ma sanno di caramelle! Forse sono stata troppo affrettata. Facciamo testa o croce per vedere chi va prima? Sì, vado prima io. E ho già vinto! È così perfetto che sembra finto. No, no, è reale. Il tuo turno, Alice. Ma è un cuore di carciofo. Dovrei mangiarlo? Scommetto che non sa di lecca-lecca. Ma lo proverò lo stesso. Aspetta, dovrebbero metterci delle istruzioni. Si faceva così. Non lo so, ma è stato troppo divertente. Sento che ho la lingua piena di peli. Ci sono ancora dei lecca-lecca. Mi piacerebbe togliere questo saporaccio dalla bocca. Tocca a te, Olivia. E vai! Una pizza bella calda! Ha un buon profumo! E Alice ha trovato... Delle fette di ananas. Il mio frutto preferito! Bene, sono entrambi sani e dolci. Mmm, che buono! Prenderò anch'io un pezzo. E del resto? Perché non mischiare le cose? E come lo fanno alle Hawaii, non è vero? Olivia! No! Che brutta idea che hai avuto! Per favore, ti supplico! E ci siamo! Un grande morso! Olivia, stai bene? La pizza con l'ananas è una di quelle cose che ami o odi? Meglio, ce n'è di più per me! E tu cosa preferisci mangiare? Condividi questo video con i tuoi amici e non dimenticare di iscriverti al canale YouTube 123Go Challenge Italian per altri video fantastici! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie per la visione!